Io in 28 anni di vita politica ho fatto pochissime scene con compagni e compagne, forse un difetto mio, non so, un limite, sono sempre stato un po' schivo, proprio adesso, questi giorni stavo pensando che forse la persona con cui ho cenato di più, ho fatto più cena, non tantissime, poche, è stato proprio Roberto, perché con lui era abbastanza quasi naturale. L'ultima volta che ci ho parlato ho fatto una cena di sette ore, per certi versi questo già dice tanto, perché Roberto era così, e ogni volta che mi è capitato di parlarci non ci riusciva a chiuderla in poche decine di minuti, servivano sempre due o tre ore, mi hanno fatto chiacchierate in pubblica, cioè in libreria, Giulio lo sa, che devo andare a casa, devo andare a prendere Ginevra, stavamo lì e finivamo, 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 perché con Roberto era così, con Roberto non si finiva mai di parlare, perché era sempre uno stimolo, un'idea in più, un racconto. Io l'ho scritta questa cosa così gratificante con lui di poter raccontare qualcosa che ti succedeva a te e lui te la faceva sentire, era una cosa che riguardava lui, tutti, tanti, una famiglia, una comunità, un collettivo, delle persone che stanno insieme. Questa è la cosa che mi lascia più di tutti. Stavo pensando a questa cena appunto, è durata sette ore perché dovevamo discutere di cose che, di divergenze, di disaccordo, un disaccordo che avevamo e ci dovevamo spiegarlo fino in fondo, ed è stato uno spiegarselo fino in fondo, alle tre di notte ancora ci lo stavamo a spiegare sul pianerottolo di casa mentre prendevo l'ascensore, ancora lì ci siamo detti l'ultima cosa, perché ci dovevamo dire qualcosa. La prima volta che l'ho conosciuto, nell'85, nell'86, la prima volta che ci ho parlato seriamente di politica è perché mi ero tesserata a quella organizzazione di pazzi che era l'LCR. Lui l'ha saputo il giorno dopo che avevo deciso di farlo, era tutto contento e la prima cosa che mi dice è, mi raccomando, leggi di Stato di Rivoluzione e la mia vita di Trotsky. Cazzo. E quindi mi sono andato a comprare Stato di Rivoluzione e la mia vita di Trotsky, me ne sono letti subito, ho trovato i bellissimi, e ho detto, ah, questa è proprio la mia cosa, la mia realtà. Lì ho capito questa cosa, cioè, negli anni, chi lo conosce Roberto sa che ti ha sempre consigliato qualcosa da leggere, o ti ha sempre dato una cosa da leggere. era una mania, ma non maniacale, era l'alfa e l'omega del suo pensare e la politica. L'idea, cioè, di trasmettere qualcosa e di essere un pezzo di qualcosa che è trasmettato da qualcun altro, di essere una parte, non è, cioè, davvero, qui, se pensiamo a quello che è diventata la politica, al liderismo che è, a tutta questa montagna di fuffa, a tutta questa montagna di chiacchiere, a tutte queste chiacchiere distintive che circolano ovunque, ovunque, anche a sinistra, Roberto, invece, era quel pezzo che deve far ruotare una macchina più complessa, più grande. E trasmettere qualcosa era un compito che si era dato con molta serietà. Quando vedo compagni molto giovani che ci hanno tutti gli ucciconi e piangono, capisco che, anche quando ci litigavano con Roberto, però capivano e rispettavano a fondo questo aspetto qui, questa missione, questa capacità, e poi proprio questa capacità, così come la capacità, il fatto che tanti compagni e compagni siano qui, ma sanno della sua morte, sono addolorati, perché Roberto non ne lasciava una, chiunque lo sa, credo che lo sapete, stava lì a discutere con chiunque perché doveva o convincere, oppure semplicemente discutere, semplicemente confrontare quello che era la questione di quel momento, perché gli piaceva questa cosa qua. Detta così, però, può sembrare il ricordo di un compagno, anche un po' pedante, che sta lì con i libri, tutto pieno di libri, che sta dentro la biblioteca, eccetera, eccetera. Al netto della gioialità, appunto, la persona con cui ho fatto più cene, diciamo, tra quelli, a cui da questo punto di vista mi legano ricordi particolari, mi è venuto in mente lui adesso, Daniela, il capodanno di Ascianello, che per voi penso sia stato importante e che per me chiude, diciamo, un cerchio, un cerchio di vita. E quindi, al netto di queste cose belle, io da Roberto ho imparato proprio l'ABC della politica, nella pratica, in quel gioiellino, appunto, in quegli anni bellissimi tra l'86 e l'88. Poi ci siamo sciolti e si siamo infilati nel delirio della politica della sinistra, nella morte, lì eravamo vivi. Però, lì, cosa si è imparato? Si è imparato che da quei libri, da quella trasmissione, da quella cosa, poi c'era una pratica, uno stare insieme, che nella concretezza delle cose che facevi, se fosse anche occupare l'università o fare il comitato di lotta all'università, riproducevi tutto quello che avevi letto. E lo facevi concretamente, nella discussione che facevi nel rapporto insieme. Io mi sono portato per 20-30 anni di vita politica, quelle 4-5 cose imparate in quei due anni là. E non lo potrò mai dimenticare, perché è stata proprio una palestrina di formazione, che vale quello che vale. Poi siamo tutti collocati in maniera relativa nel mondo e per cui non c'è niente di assoluto. I ricordi valgono per quello che sono, però per me, per me è chiaro per tanti, sono questa cosa qua. E questo fa diventare una persona particolarmente speciale, una persona particolarmente bella per la tua vita, per la vita di molti di noi. E lui ha una cura, una cura a questo stare insieme, a questo progetto collettivo, a questa cosa del collettivo, questo fatto che ognuno di noi è un pezzo di una cosa. Io questa usa, mi ricordo quando si discuteva di come si formano i gruppi dirigenti, e da Roberto ho imparato questa cosina del mosaico e del puzzle. Per cui ognuno è un puzzle che sta dentro un mosaico. Se li metti bene, alla fine l'insieme, che vale per i gruppi dirigenti, vale per i collettivi politici, vale per tutto, l'insieme è armonico e bello da vedere, altrimenti è sgrammaticato, è brutto. Ognuno è importante perché è una tesserina, non ho perché è il tutto. E quella tesserina è fondamentale. E lui si sentiva molto di lavorare per questa cosa qua. E questa cosa l'ha trasmessa, l'ha trasmessa a tanti, l'ha trasmessa fino ad oggi, fino a sempre. Questo secondo me, questo è un aspetto importante. Nella cosa che ho scritto, però poi ho scritto, mi è venuta in mente la notte che è morto, riguardandolo per l'ultima volta, questa frase mi è venuta, guardando lui mi è venuta in mente questa cosa, la politica è bella. Perché io credo che questa è la cosa bella di Roberto. Certo? Cioè la politica è bella, ma no, in un mondo in cui politico e le due parole, politico, bello, sembrano uno simoro, sembra che debbano fare a cazzotti, per lui la politica è bella, era bella tra tante ragioni, perché non brigava per avere un incarico, non brigava per queste cose qui, perché gli interessava il bene comune, diciamo, come si dice oggi, di una comunità, di un gruppo, ma fondamentalmente della classe a cui sentiva di appartenere, perché era quella la spinta, la grossa spinta che lo motivava. Ma io penso, questo ricordo che ho io ovviamente, senza nessuna presunzione di assoluto, che poi la politica era bella perché incarnava poi una grande curiosità intellettuale, una grande freschezza mentale e intellettuale di una persona che leggeva di tutto, che faceva tante cose e che quindi in quella politica è bello, c'era l'amore per l'Irlanda e per la storia, la politica in tutte le sue varie espressioni e il gusto di andare a cercare la concatenazione delle varie cose tra di loro. Io penso anche, personalmente penso anche che questo suo approccio alla vita, attraverso la politica, attraverso questa cosa bella appunto della politica, c'era poi la persona vera che gli metteva insieme tutti i pezzi della sua vita, l'amore per Ginevra e per Daniela, l'amore per i compagni e per gli amici, l'amore per la politica, cioè è una persona organa, una persona coerente, una persona coerente, in tutto quello che faceva, c'era l'armonia tra quello che faceva a casa e quello che faceva fuori casa, non c'era una disfunzione, e non è che andava fuori casa, io mi ricordo, lo conservo così, non è che andava fuori e poi, sì, rubava qualcosa, perché ti riportava qualcosa perché era lui, era questo, era quella persona là, e te l'hai scelto, era lui, e tutti quando ce lo siamo scelto è stato per questo, questa bella coerenza. questa integrità morale che era un'integrità umana, culturale, intellettuale di una persona che guardava al mondo appunto con il grande sorriso che tutti quanti in questi giorni stiamo ricordando, che restituiva quello che c'era dentro, quello che c'era dentro è quello che poi un tarlo infame e mostruoso ha cercato di erodere e con questa integrità io penso che abbia resistito, abbia resistito in tutte le varie, un grande momento all'agire c'era dentro Roberto, un grande momento che l'ha portato a reggere, a reggere, a reggere molto più di quello che poteva sembrare all'inizio con una grande forza d'anima, una grande forza di... appunto con questa coerenza interiore. per questo la politica è stata bella con Roberto, e per lui è stata bella la politica, e per questo diciamo se lascia qualcosa lascia questo e tante altre cose ognuno lascerà ovviamente cose importanti. Io me lo porto via così come l'espressione, come il sentimento di uno splendido compagno, di una splendida persona e che ha reso anche splendida una grande parte della mia vita politica, della mia vita tutta e che un po' se la porta via e un po' ce la lascia e per questo non ce lo scorderemo mai. Grazie.